Il bilancio approvato la settimana scorsa dalla giunta provinciale ha dovuto subire alcune sostanziali modifiche causa la decisione del governo nazionale di imporre ulteriori tagli alle autonomie speciali. Per Bolzano questo significa 120 milioni in meno rispetto al previsto. È stata già individuata una soluzione. Noi abbiamo dovuto trovare oggi 120 milioni, 70 milioni per accontamenti o per patto di stabilità e 50 milioni perché è stata ridotta l'IRPEF dell'1%, così perdiamo 50 milioni. Noi abbiamo pensato di trovare questi fondi riducendo l'importo che abbiamo previsto per inizia agevolata di 20 milioni. 100 milioni abbiamo più o meno prestato dal fondo di ricerca e innovazione dove attualmente già aggiano 140 milioni. Abbiamo preso questi 100 milioni con l'obbligo. Se domani venissero dei fondi freschi, vincendo un processo presto alla Corte Costituzionale, che è probabile, allora subito viene attribuito a questo fondo per portarlo di nuovo a 140 milioni. Una Medical School a Bolzano frutto della cooperazione transfrontaliera tra più università con insegnamento trilingue e 40 medici da formare ogni anno. Sono alcune delle caratteristiche della proposta di progetto approvata dalla Giunta Provinciale. Noi abbiamo tentato di fare questa Medical School con Innsbruck, Trento, Bolzano e Milano. Se questo non fosse possibile allora con Roma. In tutti e due i casi Roma ha detto di no. Allora Trento ha pensato di fare un accordo con Firenze. Anche in questo caso hanno detto di no, però hanno detto che se fosse la possibilità di fare una scuola di insegnamento plurilingue, allora eventualmente sì, specialmente se fosse inserita anche una università di un altro Stato. E così noi abbiamo parlato con Trento, abbiamo detto che potremmo risolvere questo problema nel senso che prendiamo l'Università di Firenze, Capofila e poi Trento, Bolzano e eventualmente Innsbruck o un'altra università di lingua tedesca. Così noi potremmo creare circa 40 posti per la Facoltà di Medicina a Trento, 40 a Bolzano. Avremmo già la gran parte degli insegnanti a Bolzano che lavorano nei vari ospedali, Trento altrettanto. A Bolzano dovrebbe essere tre lingue, cioè prima di iscriversi uno deve dimostrare di sapere due lingue e la terza entro l'aprile dell'anno successivo. I costi sarebbero circa, quando funzionano tutti i cinque anni, sarebbero circa 10 milioni e io credo che questo sarebbe possibile. Perciò abbiamo istituito una commissione che elabori un programma preciso, chiaro, curriculum, però anche i vari insegnamenti, professori e poi anche le aule, cioè le strutture e poi anche diciamo come potrebbe funzionare la collaborazione tra queste quattro università. Adesso aspettiamo risultato, entro il 15 novembre dobbiamo presentare le domande al Ministero. Con la Medical School oltre a formare i medici si potrebbero attivare nuovi professionisti in Alto Adige, aumentare così la qualità dei servizi sanitari offerti.